Professor Burgio, il suo intervento appunto parte da autismo, dalla genetica all'epigenetica, che cosa significa? È una domanda complessa, non è facile rispondere, in due minuti ci proviamo. L'autismo è stato lungamente considerato una patologia che ha forti basi genetiche, questo sulla base di tanti studi fatti nei gemelli, quello di cui ci si sta progressivamente rendendo conto, primo, che tutti i disturbi del neurosviluppo, in particolare quelli di spettotistico, stanno aumentando in molti paesi, noi non abbiamo i dati in Italia, però probabilmente anche da noi è una patologia in rapido aumento. Questo già contrasta con l'idea della genetica classica, per cui non muta il DNA molto rapidamente. Allora, quello che stiamo vedendo è che probabilmente esiste un modo di studiare il DNA e il genoma diverso, che sta emergendo da alcuni anni e si chiama appunto epigenetica, che è una branca della biologia molecolare, che descrive il genoma come qualcosa di aperto all'ambiente, alle informazioni, che soprattutto nella prima fase della vita, quindi durante la vita l'ontogenesi fetale, per intenderci, ai primi due anni di vita, è particolarmente aperto. Per cui quando il bambino si sta formando nella pancia della mamma ai primi due anni di vita, il modo in cui si formano le reti neuronali è importantissimo ed è frequentemente disturbato da tutta una serie di agenti fisici, chimici, cosiddetto inquinamento in senso lato, ma anche dalla stress materno. Questo è lo studio, diciamo, l'oggetto di studio principale in questo ambito dell'epigenetica. E a livello internazionale ci sono dei risultati? C'è una letteratura sterminata su questo, che è nata prima dagli studi sperimentali sugli animali, che ha dimostrato come animaletti, soprattutto inizialmente ovviamente ratti, topi, esposti in utero a stress di vario tipo, frequentemente sviluppano patologie letteralmente del neurosviluppo e psichiatri, che poi ovviamente tutto questo si è rivolto con maggiori difficoltà allo studio umano. E ci sono tantissimi studi, anche molecolari, fatti ovviamente in buona parte sulle autopsie di soggetti che per esempio hanno commesso suicidi, ovvero soggetti depressi, ovvero soggetti che hanno avuto patologie più o meno gravi come la schizofrenia, ma ormai anche soggetti che hanno i cosiddetti disturbi del neurosviluppo, che hanno le stesse modifiche epigenetiche nel loro DNA, nel loro genoma cerebrale, che hanno paradossalmente i topini o gli altri animali di esperimento. Quindi c'è ormai la verifica, direi quasi veramente molecolare, che quello che avviene nelle prime fasi della vita, tanto negli animali di esperimento, tanto nei bambini, tanto negli adulti che soffrono di patologie, sono vere e proprie marcature iniziali della vita sul DNA che creano una sofferenza, una programmazione, se vogliamo, alterata del sistema.